Konnichiwa, se volevate sapere se nella vita vera i passaggi a livello sono come nei cartoni animati o negli anime Eccovi la risposta, dozo! Scusate! Soddisfatti? Bene, alla prossima, sayonara! Eh, aspetta, se non l'aveste ancora fatto vi consiglio di andare a rivedervi i vecchi video, perché sono sempre interessanti, magari ho già risposto a delle domande che mi vorrete porre, tanto non scrivete, lo so anche quello, io vedo se andate a vedere le cose che ho fatto in precedenza, lo vedo, lo vedo, non fate i furbi, lo so benissimo, ma non lasciate neanche dei commenti, cioè, bah, che follower siete, lasciamo stare, ciao!